L'intelligenza artificiale dei territori è una coppiata su cui potremmo continuare a riflettere parecchio. Abbiamo raccontato alcune progettualità, alcuni esempi di progetti che in questo momento rimettono al centro una comunità. Ne racconto uno legato alla mia comunità. Io sono nato a Montapone, un paesino nell'entroterra Fermano dove si producono cappelli. Da noi la minaccia quando eravamo piccoli era lo studio finisce a cucircappelli e così noi abbiamo scelto di studiare ma poi piano in piano abbiamo riscoperto anche il gusto di contribuire all'evoluzione di una comunità. Di recente abbiamo scritto e vinto il finanziamento di un progetto di ricerca e sviluppo interessante che si intitola Cappellai. E questa ai alla fine della parola Cappellai ci ha ispirato l'idea di dire quella comunità è detentrice della conoscenza della produzione del cappello. E ci sono anche molti giovani che attorno a quel cappello hanno creato impresa, hanno creato opportunità, hanno creato ristorazione, accoglienza turistica, spettacolo e tanto altro. E quindi questo essere detentori della cultura del cappello, della conoscenza del cappello oggi ci porta a guardare l'intelligenza artificiale e dire ma potremmo farlo realmente lì? E così abbiamo iniziato a raccogliere milioni di immagini che ci permettono di addestrare sistemi di intelligenza artificiale generativa per supportare la creatività del cappello. È un piccolo esempio che ci racconta di una condizione abilitante per i nostri territori, è quella di guardare al digitale senza paura, è un'opportunità con cui crescere, guardare la ausenza di fidenza e cercare di creare sempre più dei dialoghi interdisciplinari ma anche tra generazioni che ci permettano di portare innovazione. Oggi i cappellai potrebbe diventare anche l'elemento per cui qualcuno tornerà a lavorare da quelle parti, tornerà a lavorare nel cappello così come abbiamo tanti esempi in giro. Ecco il nostro scopo anche come gruppo di ricerca universitaria è cercare di stimolare anche i nostri giovani a tornare nelle proprie comunità e a portare innovazione. Abbiamo molto da fare nella conoscenza del territorio, nell'economia, nel marketing territoriale, nella capacità di ricreare economie attrattive anche per tutti i nostri colleghi del digitale che sono nomadi digitali in giro per il mondo. E questa penso sia una missione comune che simula da 12 anni, porta avanti e che ha molto a che fare col titolo di quest'anno. Grazie 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 Emanuele Frontoni, professore ordinario di informatica, Università di Macerata e co-director del VRAI Lab, Vision Robotics and Artificial Intelligence Lab. Grazie Grazie Grazie